L'avvertenza Gela è costantemente eseguita con particolare attenzione da parte della giunta comunale. Non può dirsi la stessa cosa del governo regionale presieduto dal gelese Rosario Crocetta. Se molti progetti sono fermi la responsabilità è solo del governatore. Parla chiaro, senza giri di parole, il sindaco Domenico Messinese e l'indice accusatorio è puntato all'indirizzo di Crocetta e non solo. In Vitalia di fatto è fermo perché c'è una delibera di giunta ferma da oltre tre mesi che va a definire la perimetrazione. I soldi delle compensazioni non si spendono perché il presidente della regione Rosario Crocetta non si riesce a trovare. Fra le altre cose quasi 20 milioni di euro sono stati già definiti insieme ai capi gruppo del Consiglio Comunale. Ma il problema non è solo esclusivamente a livello industriale che forse è quello più evidente ma anche a livello sanitario. Io vorrei ricordare che il pronto soccorso non si apre, ci sono responsabilità del presidente della regione. L'unti non si apre di responsabilità del presidente della regione. La best unit non si apre di responsabilità del presidente della regione. Gli organi ci sono insufficienti di responsabilità del presidente della regione. È inutile additare al dottor Iagona che è il quale d'altronde è stato messo là ma se non vengono date le risorse di fatto sicuramente non può dare le risposte. Qui è un problema politico ben chiaro. Io ricordo che siamo all'interno di un'area di crisi complessa che è stata certificata. Siamo in un'area di crisi a livello ambientale ma di fatto non viene fatto nulla. C'è un immobilismo totale. Quindi il presidente Crocetta che venga qui a Gela a firmare tutti quei documenti che sbloccheranno tutta una serie di attività e danno ristoro immediato al territorio e che possono dargli un futuro reale. È inutile che giochiamo a rimpiattino andando a fare dei congressi del PD dove praticamente si cerca di scaricare a questa amministrazione quando in realtà i problemi più grossi sono a livello regionale e nazionale dove vorrei ricordare che sono rappresentati dal PD o dalle forze che lo sostengono. E questo è estremamente grave. Prima di poter cercare un capo espetorio che sicuramente non è l'amministrazione che ha sempre mostrato di fare gli interessi di tutti i cittadini gelesi, non di parte, non di partito e nemmeno di lobby e che quindi praticamente fa gli interessi di tutta la collettività cortesemente che vadano a sollecitare i propri rappresentanti a muoversi per poter fare qualcosa per la città e non per essere i mandanti come Renzi nella distruzione della città di Gela e trovare degli esecutori come il presidente della regione Rosario Crocetta insieme all'ex sindaco che di fatti hanno consegnato questa città in una situazione pietosa. Il vice sindaco Simone Siciliano è intervenuto sugli aspetti tecnici che riguardano la vertenza Eni. La vertenza Gela è una vertenza a carattere ministeriale lo è perché questa amministrazione ha portato nel tavolo del Ministero di Sviluppo Economico la bozza di accordi di programma in essere. La vertenza quindi diventa nazionale e discussa nel tavolo in cui i quattro ministeri fondamentali possono trattarla e possono risolverla. In questa trattazione spesso e volentieri si notano le inerze burocratiche tipiche di una regione che fatica a decollare e nello specifico l'accordo di programma subisce un rallentamento proprio perché in giunta regionale la delibera di perimetrazione dell'area su cui l'amministrazione assieme ai dirigenti e quindi ai funzionari della regione e al Ministero di Sviluppo Economico di concerto con Invitalia ha lavorato e quindi rimane ferma in attesa che la giunta regionale la firmi e possa consentire a Invitalia di destinare le somme che afferiscono a carico della regione rispetto a quelle che afferiscono a carico del governo centrale per contrastare la crisi gelese.